Che entrata a tempo! Buonasera, benvenuti ad Affari Tuoi. Dieci anni e non sentirli. Ridendo, scherzando, giocando, vincendo, perdendo. Abbiamo iniziato l'8 settembre. È quasi ora di dirci... Allora... Saluti dal mondo! La signora romana, romana di nome, ci scrive da Parigi. Pari, buonasera, maestro Negro. Faccia sentire Pari, a Pari! Bene, dalla Svizzera, faccia la Svizzera. Riccardo e Martica dalla Svizzera, li salutiamo anche loro con grande affetto, dicono una cosa bellissima. Scusate se per una volta ci vantiamo. Ci dicono, se vivessero in Italia, pagherebbero il canone doppio pur di vedere e sentire Affari Tuoi. Grazie per la compagnia! A ringraziarci! E Laura, sono Laura e Giorgio da Lanzarote, Spagna. Ci dicono una cosa molto bella. C'è un piacere sentirsi italiani all'estero, insieme, reciprocamente. Anche grazie di Affari Tuoi. Li vogliamo bene! Olè! Gioca! La stella più bella, gioca l'Umbria! Basta il luevo, basta il luevo! Buonasera, stella bella! Ciao, Claudio! Ciao, ciao! Senti, vuoi cambiare il 13 oppure no? Sono indeciso, per il momento non c'è. Ok, deciditi perché siamo già nella pubblicità, non lo cambi. Bene, chiama il primo pacco, dai, un pacco giovane! Troviamo il pacchetto, dai! Dai, dai, dai! La due, il pacco due, la Sicilia. Dopo la pubblicità, sapremo dentro la Sicilia che ci sta. Una serata molto giovane, ok?